salve a tutti bentornati in questo nuovo video bentornati sul mio canale mi raccomando ricordatevi di iscrivervi aiutarmi a crescere nelle classifiche di youtube e mettete un bel like devo superare almeno i 10.000 iscritti per poter accedere a alcune funzioni e per potervi quindi dare dei contenuti nuovi e anche diversi allora andiamo avanti con il video oggi siamo qua per commentare per parlare insieme di un film che aveva fatto molto successo questa primavera poi purtroppo la primavera scorsa scusate poi purtroppo a causa della pandemia non era uscito nelle sale se non per una piccola demo negli stati uniti d'america poi è stato acquisito dalla apple che l'ha messo sull'apple tv plus e adesso non so se uscirà anche su netflix il film è grey hound di cosa parla grey hound sostanzialmente grey hound parla di un capitano che capitano di una nave in questo caso appunto la grey hound che insieme ad altre 37 navi deve attraversare l'atlantico per portare rifornimenti e truppe in inghilterra gli stati uniti all'inghilterra la grey hound e il suo capitano sono il capo scorta del convoglio quindi sono una nave d'attacco una difesa se vogliamo chiamarla con una nave militare da guerra assieme ad altre quattro navi devono difendere questo convoglio di ben 37 navi e difenderlo da chi? difenderlo dagli U-Bot la scorta è composta da una nave americana una nave canadese e due navi inglesi il comandante Ernest Krauss appunto che è il comandante in questione il nostro eroe deve quindi coordinare queste navi da guerra per poter riuscire a difendere più possibile questo greggio di navi da trasporto il problema è che dopo un paio di giorni di navigazione ovviamente le navi perdono il supporto aereo nessun aereo può proteggerle proteggere le navi la sua scorta durante l'attraversamento dell'atlantico perché a un certo punto finisce ovviamente l'autonomia degli aerei e c'è tutto un pezzo scoperto fino arrivare in prossimità dell'Inghilterra dove si tornerà ad avere la copertura aerea in quel tratto la fanno da padroni i sommergibili tedeschi raggio 11.000 rilevamento 094 allora cominciamo a dare qualche informazione in più ovviamente non su il film sennò poi come dire ve lo spoiler e non ve lo godete se andate a vederlo allora innanzitutto la greyhound oppure la nave che nel film è chiamata greyhound essendo questo film tratto da una storia vera è tratto da un libro che parla di questa traversata che la prima traversata di questo comandante quindi è tratta da una storia vera successa da un accadimento successo durante la seconda guerra mondiale la nave in questione però non si chiamava greyhound ma si chiamava uss kid con 2d oppure detta in gergo della marina dei dei 661 cioè dei dei 66 661 dei dei di di 661 questo era il termine della uss kids la kids è una diciamo così un destroyer come viene definito un caccia torpediniere forse tradotto in italiano è un destroyer della classe fletcher e questa questa nave ha avuto una buona un buono stato di servizio in quanto oltre aver poi fatto questo servizio di scorta non solo questo ma ne ha fatti parecchi in atlantico è stata poi ridipinta quindi dipinta con colori mimetici e trasportata a fare servizio anche qua di scorta e di difesa nel pacifico quindi contro le truppe giapponesi terminata la seconda guerra mondiale la usa kid è stata me tenute in servizio ovviamente e ha concorso nella guerra di corea quindi è stata mandata in missione nella guerra di corea ha svolto anche qualche missione in solitaria di un certo rischio è finito il suo servizio la us e 66 kid è diventata una una nave museo e tutt'oggi la si può andare a vedere come nave museo la nave si trova ora in louisiana abatto giugge e qui la si può andare a visitare è diventata come dicevamo un attimo fa appunto un museo cos'altro abbiamo visto nel film il film ricaica finalmente non è il solito film americano dove si sparano colpi all'infinito dove l'azione infinita l'azione ovviamente copre una buona parte del film perché si svolge in due giorni e mezzo tre circa quindi diciamo che il grosso dell'azione è una 48 ore non stop però non è il solito fin d'azione dicevamo americano dove colpi infiniti infatti le navi iniziano a finire le bombe di profondità non hanno molti colpi a disposizione iniziano a finire il gasolio ci sono parecchi intoppi lo stesso i sommergibili tedeschi che eseguono sì degli attacchi ma non è un attacco continua un attacco a raffica come per esempio nella notte avrebbe potuto fare perché anche i sommergibili tedeschi non hanno sì luri infiniti ecco quindi che a differenza dei film tradizionali d'azione moderni si vengono rispettati i canoni di una battaglia nella vita reale quindi con determinati strumentazioni e con una quota ben fissa di munizionamento e di carburante oltre a questo un'altra cosa che mi è piaciuta nel film è il fatto che in plancia i marinai indossassero l'elmetto come in realtà è e non con tanti film di guerra che abbiamo visto dove hanno tutti il loro berrettino e se ne fregano abbiatamente delle schegge perché una volta nella seconda guerra mondiale più che i missili o determinati tipi di cannoni avevano questi cannoni che sparavano granate o proiettili perforanti quali esplodendo magari anche 50 60 100 metri dalla nostra posizione esplodendo si frammentavano in mille pezzettini e lanciavano pezzi d'acciaio dappertutto quindi si poteva essere venuti colpiti più facilmente anche di sponda che non fa direttamente da un colpo quindi l'elmetto era duopo per chi era sopra coperta quindi all'esterno della nave o in plancia di comando quindi anche il capitano lo vediamo non col solito berrettino girato ma lo vediamo con il suo elmetto quindi anche questo va un applauso al regista che ha rispettato abbastanza bene sia nella parte delle divise nella meccanismi di funzionamento della nave e anche in questo modo di essere dei marinai durante il combattimento il film mi è piaciuto proprio per questo un film abbastanza umano dal punto di vista dell'equipaggio quindi non il solito film dove si spacca solo tutto ma dove c'è sì tanta azione ma un'azione commisurata quelle che sono le possibilità di un combattimento reale quindi un plauso al regista e anche ovviamente agli attori perché lo trovo ben girato ci sono alcuni fasi della battaglia dove si vede un pochino l'utilizzo della grafica 3d dove è stato ricostruito qualcosina in grafica 3d e questo invece ha una nota demerito avrei preferito un utilizzo migliore più realistico di alcune situazioni ma posso capire che era una situazione da ricostruire secondo i dati reali e quindi non si potesse realizzare completamente con una grafica forse più realistica questo non lo so lo lascio criticare a voi una volta che avete visto il film per questa recensione e per questo film è tutto allora con tom hanks andatevi a vedere greyhound il nemico invisibile perché i sommergibili ovviamente quando sono sommersi allora erano praticamente invisibili ci vediamo in un prossimo video mi raccomando iscriviti del canale mettete un bel like ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti da ermanno ciao